Dimmi che stai andando nel deserto senza dirmi che stai andando nel deserto Cioè sta vibrando tutta la macchia appena ferma un po' Io non sono un esperto ma mi sembra un problema Mi state dicendo che questo è il nostro hotel E sembrava che cascasse la stanza dal vento che c'era Ci siamo, la nostra camera è la 203 Allora, attenzione la luce Allora, allora, ti devo dire Questa camera è troppo figlia Sì ma quella di Frank è il doppio È esattamente come mi aspettavo Questa camera oltre a essere molto carina, abbastanza grande Eccetera eccetera Ha un sacco di dettagli proprio inerenti, credo, agli indiani Vabbè anche il bagnetto, neanche male Ma che è un lavapiedi? Si lavava il piede Dai anche oggi non mi faccio la dolce No, manca a far così Sono due mesi che non mi faccio No, scherzo La cosa che secondo me è un po' sbagliata è la luce Che è troppo fredda Fa sembrare l'ambiente, non lo so, più squallido Facciamo vedere la cosa clou Cioè qua ti vedi proprio il tramonto Che cazzo devo andare a fare lì? Che bello Guardate che vista che c'è Ma che cacchio stiamo dicendo? Mia, stamattina ci vediamo l'alba Aspetta, no La lese Ma adesso vediamo la mia Non ha senso, non ha senso questa cosa Ma a me piace più la mia Buongiorno Allora, ci sono da spiegare alcune cose Ieri sera non abbiamo scenato Anche perché il posto in cui alloggiavamo Era chiuso Cioè il ristorante era chiuso L'intorno non c'erano posti O comunque se c'erano, erano chiusi E stamattina, uguale, non c'era la colazione Per cui già ci stiamo spostando verso la prossima meta Stiamo morendo di fame E io spero che prima possibile ci fermiamo e mangiamo qualcosa Comunque, a parte il discorso cibo C'è da dire che però Questo tra tutti quelli che abbiamo visto Era il più tranquillo C'era l'acqua calda I servizi c'erano tutti Anche la camera mi sembrava a posto Non c'era il bidet, quindi non tutti i servizi Il bidet però, quello proprio in America Non sanno che cos'è L'hanno voluto nascondere Però comunque lo sai che ieri Mentre stavo andando a vedere se c'erano i ristoranti C'era una cavalletta grossa così Se l'ho vista Fuori dalla camera Ma quindi è quei che ci stiamo dirigendo Sì, all'Antilope Canyon Sarà la nostra meta finale Allora, noi siamo venuti fino qua in Arizona Per andare qui Nel Antilope Canyon Ed essendo che qui comandano tra virgolette indiani Una riserva indiana, vai io se non ho capito male Che si fanno? Pagare tutto un botto Cioè per andare Io vorrei che per gli altri parchi 35 euro tutti e tre La macchina per entrare nei parchi una settimana Sì, infatti Qui un tour di 90 minuti 100 dollari a testa Parliamone Abbiamo prenotato per le 3.25 Credo che adesso andremo a trovare un hotel Qualcosa dove alloggiare E poi andremo Cavolo però Io ci stavo penzando Allora, Canyon Inn è molto carino Se ne avevo un motel dove ci accoltelleranno Però io lì davanti vedo Un Best Western Blast E tu sai che ogni volta che vado a qualche parte Andrò un Best Western E ora sono curioso di sapere che cacchio vuol dire Blast Spero ovviamente Di trovare qualche animale simpatico La piscina E non la palestra Anche la palestra ovviamente Ci vuol dire che questo è un signor hotel Sì, mi sembrava un hotel Anche la reception giù era la stessa Vediamo un po' come Ma qui scusami Non ho capito il gioco di questo lavandino in ingresso Strano ma bello E ancora una volta La mia è più bella Ma hai rotto le palle tu La fai vedere almeno Oh Va molto grande In questi posti Vanno di moda i lavapiedi Cioè queste non sono dolce Non sono dolce È vero, sì Le vasche sono molto piccole Allora, però abbiamo detto Western Plus Perché? Allora, io Best Western Ci sono stato tante cose Ci sono stati anche a Roma Ci sono stati anche in Lapponia Mi sbaglio anche a New York Ho trovato un Best Western Comunque è ovunque Plus non l'ho mai letto Perché Plus? Perché probabilmente Perché c'è la palestra e la piscina Ah, quindi è più bello Gli altri non hanno mai visto la piscina Noi dopo andremo Dopo andremo a vedere la piscina E andiamo in palestra Ufficialmente comunque Ci siamo fatti scammare Per la prima volta In questa vacanza Per vedere Sicuramente Io spero Una bella cosa Oh Ragazzi Ma quanto non eravamo più abituati Qui in America Da nessuna parte Si deve usare la mascherina Ed eccoci arrivati Eccoci qua Dopo una quindicina di minuti in macchina Macchina Entriamo Queste sono le macchine Almeno sono coperte Io sono troppo curiosa Di vedere cosa c'è dentro Bellissimo Perché oltre a spiegarci Tutta la storia Di questo Kenya Ci sta spiegando anche Come fare le foto E poi ci stiamo facendo Le foto assurde Abbiamo beccato un orario Un po' buio Infatti c'era il turno Delle 11.20 Dove c'era la luce del sole Che entrava dentro il Kenya Che costava ancora di più Ma comunque abbiamo fatto tanti Ma pericolosi non sapevano Nemmeno che siamo venuti qua Non sapevano niente Non sapevano neanche Che dovevano pagare Per venirci Esatto Siamo inarrestabili Abbiamo finito La nostra visita In questo bellissimo posto E siamo venuti In la palestra dell'hotel Comunque la palestra Certo dì Non è delle migliori Molto easy Due tappeti Rastrelliera Molto piccolina E qui hanno Dei cavi Regolabili E i ganci per le trazioni Vabbè dai Si fa quel che si può Si fa quel che si può Ciao raga Buongiorno a tutti Siamo arrivati Nel momento Che più preferiamo Degli hotel E credo Che sia un po' Per tutti così ragazzi Chi è che non aspetta E non vede l'ora Che sia la mattina Dove per Fare la colazione In hotel Allora io mi dico Solo una cosa Macchina per fare I waffle Perché ieri abbiamo Sporrerato lì Nella zona colazione Secondo me Oggi C'è qualcosa di bello E di buono Scendiamo Io sto morendo di sonno Quanto ci mette Questa scienziera A scendere Vabbè ti li si è messo Benissimo Molto C'è proprio Guarda Sta è una favola Questa È la famosa Macchina per i waffle Che stanno dicendo Che c'è sia piccola Sia grande Quindi l'impasto Qui ovviamente c'è Il Ci sono delle patate Roba Hamburger E bacon Muffin E non so Queste che cosa siano Ma comunque Hanno una bella faccia Tutte le varie cose Tipo l'avena Quindi anche Per chi vuole stare dietro C'è qualcosa Anche il burro d'arachidi Arance Ananas E ovviamente Tutti i cereali americani Per zona a frigo Con gli yogurt Io mi sono presa Questo yogurtino Leggero Leggero L'avena istantanea Con l'acqua bollente Che adesso preparo Questo latte di soia Lo sorfeggio Magari è carino E poi per condire Burro d'arachidi E Marmellatina Di fragole Mentre loro qua Hamburger Uova Bacon Waffle E lui ha fatto Dolce e salata Con anche il waffle E niente Ci risiamo Come ogni mattina Dopo la colazione Si riparte Oggi ci aspettano Due ore E diciassette minuti Di macchina Per andare Allora abbiamo deciso Di andare ancora più Verso est Ok Stiamo andando Alla Monument Valley Monument Valley Arriviamo Il viaggio sta continuando Ma vogliamo parlare Del vento che c'è Delle raffiche di sabbia È allucinante Guarda l'aria Cioè è pazzesco Guarda lì c'è una tempesta di sabbia È tutto offuscato Dalla sabbia Ho una paura Bella grossa Questo è l'unico hotel Che c'è qui È l'unico hotel E non l'abbiamo pronotato Vabbè Al massimo Torniamo in macchina Facciamo così Allora La location è molto bella Hotel Con vista sul mare Ah no No Non proprio View Hotel Eccoci qua Con la visita Della stanza Allora Vorrei dire una cosa Però prima di tutto Che c'è Di primo impatto Cioè noi stiamo avendo Comunque Una fortuna assurda Allora Buon fortuna Questo è l'unico Tent della Monument Valley E sai perché si chiama The View Perché? Il bagno è sempre lo stesso Con il nostro lavapiedi Se stai guardando Questo momento esatto Del video Commentare con lavapiedi Comunque guarda Fatta la stanza Soliti letti A piazza e mezzo Sai perché si dice The View? Eh For this Oddio Ma questa È la Monument Valley Voi non avete idea Quanto è orrenda Dalla videocamera E quanto invece È maestoso E ampio dal vivo Te lo giuro Che questo Di nuovo È uno dei passaggi Più belli A me quando si tratta Di maestosità Spazi così ampi Mi piace un sacco Ah sì E poi ovviamente Anche tutto l'hotel È In super stile indiano A partire Dalla moquette Agli adattamenti E tutto Io comunque Vorrei farti Della mia stanza Sì è da prima Che mi flexa La sua stanza Forza Semplicemente Ho preso la scossa Bello Essendo più spostata Verso sinistra Rispetto alla vostra Ok Ho una vista Leggermente migliore Sulla Monument Valley Sulla valle Vediamo un po' Questa vista Allora Vediamo un po' Ti però lì c'è il ristorante Che ti rubi una vista Eh 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 Poi volevo far ti vedere Il mio bagno Che è inutilmente grande Voi avete due letti Ok Sì Io ne ho uno Ma Questo è il bagno Quanto è inutilmente grande Oh mio dio Ah te qui Niente Neanche c'hai la Vieni Ho una sedia Ah una sedia Perfetto Oddio sì Effettivamente sì È molto Troppo grande Cioè non ha senso Ma Sai un'altra cosa Che non ha senso? Cosa? Che loro ti mettono Sì la macchinetta del caffè Ma non c'è l'acqua Ecco C'è l'acqua dov'è? In tutti gli hotel Che abbiamo trovato Non c'è l'acqua nell'hotel Ma neanche nel frigo Zero Non c'è Cioè te la devi trovare Te da solo Cioè della serie Che se mori di sepe Non sai dove prenderla Quindi Io direi che ci vediamo Direttamente Domani mattina Buongiorno Ti sei svegliata tu Io no No io in realtà Sono ancora un po' a metà Comunque Colazione Noi siamo svegliati Solamente per questo Quindi Allora Sicuramente Meno carica Rispetto a quella di ieri Vabbè Solti cereali Muffin questi Identici sficcicati A quelli che c'erano lì Poi c'hanno Queste ciambelline Con il pane I bagel Sempre Ah bello Qui abbiamo lavena Carine queste C'erano dei mini pancakes Vabbè Proteine Adesso io scelgo Cosa prendere E poi vi faccio vedere Alla fine Super sperduto Ho trovato il caffè E l'acqua Anche perché Qui l'acqua Ricordiamolo Non si trova Se non O con solo ghiaccio O con solo limone Oggi c'era il ghiaccio Io ho preso alla fine Solo l'arena Le proteine C'erano proteine Dopo sciacchere di bulk E via Allora Stiamo andando via Finalmente direi Anche perché Secondo me Ora non so Secondo voi Ma questo è stato Il peggiore hotel Tra tutti A parte la vista Che era l'unica cosa Che aveva E si chiamava DbU Era il servizio Terribile Cioè loro proprio Antipatici La colazione Non c'era niente Non c'erano proteine L'acqua Non c'era acqua Non c'era Volevo arrivare Incolorato Però la prima cosa Incolorata è lontana Io faccio una proposta Io ho messo Tornando verso Ovest Ok Ma ci andiamo al Grand Canyon Quanto tempo ci mettiamo? 5 ore 5 ore 5 ore 5 ore Adesso che abbiamo messo 7 ore ad arrivare Bello Ok Allora Sono successo un po' di cose Dall'ultima clip Abbiamo visto Tutto il Grand Canyon Alla fine Oddio Aspetta tutto il Grand Canyon Vabbè Abbiamo visto un sacco di cose La parte sud del Grand Canyon Ok Scusa Scusa E poi ci siamo visti anche Il tramonto Bellissimo Comunque adesso Arriviamo al sunto Dove dormiamo? Ci sono un sacco di hotel Sì Ma costano tutti un botto E sono tutti pieni E abbiamo preso L'unico hotel Semi libero Che abbiamo trovato Vi spiego un attimo Com'è strutturato Questo lodge Praticamente Vedete Ci sono tutte Le stanze numerate Lì C'è il cartello Con le camere E te con la macchina Vai Nel tuo settore Di stanze Praticamente Ed ecco qua La nostra cameretta Vediamo un po' E' grande la ragazza Ok Ok Molto molto carina Super clean Tutta fatta giustamente di legno Due letti Come al solito Bocchetta in terra Vabbè Vabbè ci sta E' carina E' un po' Bagnetto Niente male Sempre il lavapiedi Il nostro lavapiedi Mi raccomando Team lavapiedi E lui va al bagno Benissimo Ok Ti spieghi che cosa vuoi Come va vicini Voglio vedere la vostra Io non ti voglio più Non scontato C'è anche il televisore Molto grande Il frigorifero E poi anche un uomo Distrutto Dopo dieci ore Di macchina Che mi dici? Forse erano Undici ore di macchina Ma che dici Questo tour Lo concludiamo qui? Cosa abbiamo capito Da questo video? Abbiamo capito Che non sempre E' scontato Trovare degli hotel Come siamo abituati A trovare Quindi con tutti i servizi A regola Eccetera eccetera Il problema è che Sarebbe stato più figo Se questo video Avesse iniziato Nella Red Valley Che sarà il peggiore hotel Che abbiamo C'è peggiore Quello Con più problemi Scarafaggi La sabbia Quindi era interessante Anche vedere Però può Può anche essere questo L'inizio di una lunga serie Magari Nei vari corsi Dove andremo Se questo video Ti fa 10.000 like Ok Mi porti Perché mi porti tu Ok ti porto Tipo nel peggior hotel O di Roma O di Milano O di Firenze Magari Il peggior hotel Potrei iniziare a fare Sì una serie del genere Magari scrivetelo Sotto nei commenti Se vi potrebbe far piacere Iscriveteci In nome dei peggiori hotel In cui sarei stati Che magari Prendiamo spunto Cioè sai che ficata Andare nei loro peggiori hotel E' bellissimo Vabbè ragazzi Mi raccomando E basta noi credo Andremo a dormire Siamo morti Iscrivetevi al canale Per i prossimi video E basta Anche perché Stavo per fare uno spoiler Cicante Il tipo di spoiler Dei prossimi video Ma quel video Quel video Stavo per spoilerare Non spoileriamo niente Iscrivetevi per il quale giornate Iscrivetevi Ciao Ciao